Partina Febbero, all'Italia del 187, Alex Colet e Federica Ciottami, all'Italia del 187, Alberto Vizzotto e Sireca Cinti, all'Italia, e ancora del 1924, Alberto Vanni Perez e Camota D'Avito del 1927, Alessandro Benelli, Vai Alec, vai per me! Nel numero 5, non è? Sì, va! Grusola, vai e chiede. Un pro Vittoria dell'Italia. E anche il numero numero 184. Vai Alec! Abbiamo, sappiamo tutte le come in pista. 152, 147, 277, 154, 167, 152, 167, 167, 167, 167, 168, 168, 178, 178. Ci siamo! Primo parola, ciao ciao! Vai Fede! Vai Fede! Sì, vai, Alvin! E' la cia cia cia! Abbiamo tempo di riposizionarsi per il loro secondo ballo di gara, che ormai mi ha imparato ad essere il samba! Dai piccolo! Spacca! Perciò di conoscere il loro secondo ballo di gara, che ormai mi ha imparato a scopera, che ormai mi ha imparato ad essere il samba! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.